La vicenda Ilva raccontata da chi conosce bene le dinamiche all'interno del siderurgico più grande d'Europa, del quale suo padre è stato uno dei dirigenti più giovani. Fino alla fine, romanzo di una catastrofe, l'ultima fatica letteraria del tarantino Angelo Mellone, giornalista, scrittore, capo struttura RAI, docente universitario, autore e conduttore TV e radio. Il romanzo è stato presentato al Circolo Unione di Bari, in una tavola rotonda con il presidente nazionale della Lilt, professor Francesco Schittulli, il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana, l'imprenditrice martinese del settore agroalimentare Beatrice Lucarella ed il presidente di Copagri Puglia Tommaso Battista. Un dibattito di stringente attualità sul binomio lavoro-salute che in alcuni casi, come l'ex Silva, sembrano purtroppo inconciliabili. Il governatore Emiliano ha pubblicamente ringraziato l'autore per aver pensato un libro che racconta le mille sfaccettature di una vicenda davvero complessa. Animata la conversazione barese, tra dati sull'inquinamento ambientale, l'esperienza di chi fa impresa anche in quella zona ed il progetto di Copagri per l'internazionalizzazione delle imprese tarantine e la valorizzazione delle produzioni sui mercati esteri. Il libro di Mellone è lo specchio dell'attualità italiana, le prese con problematiche politiche ed ambientali che sembrano irrisolvibili. Tematiche che travolgono i protagonisti, Claudio, Dindo, Gorgo e Chiodo, cinquantenni con quarant'anni di amicizia profonda, immortale. I quattro hanno superato indenni crisi profonde, ma il loro legame si spezzerà a causa delle idee contrapposte sul siderurgico. Un romanzo avvincente, da leggere tutto d'un fiato, in cui è impossibile non identificarsi con le vicende umane dei protagonisti.